Cari lettori la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo romanze su una giovane di 19 anni con grandi ambizioni, che si trasferisce a Milano per studiare. Qui, si trova a dover affrontare un ambiente completamente nuovo. Trova lavoro in un caffè ed incontra un giovane imprenditore che suscita subito il suo interesse ma emergono tensioni costanti e conflitti. La trama del libro Tutta colpa di un caffè, della scrittrice Molly B. pubblicato dalla casa editrice Self Publishing, è la seguente. Venere è una ragazza di 19 anni, ha grandi ambizioni per sé e un carattere non proprio facile. Quando lascia versa per andare a studiare a Milano, deve fare i conti con un posto del tutto estraneo a lei, abituata fino ad allora alla piccola cittadina del sud trova lavoro in un caffè ed è proprio qui che incontra lui, Michael, giovane imprenditore che cattura subito la sua attenzione, anche se lei è scostante sulle prime. I due si piacciono e si vede. Tra loro nasce presto una relazione. Sarebbe il copione perfetto per una storia romantica, ma c'è dell'altro. Tra loro vivono tensioni persistenti e continui conflitti, ma la passione e la dolcezza, quella non manca. Riusciranno a viversi, senza farsi di continuo la guerra? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Grazie.